Questa operazione va eseguita con la moto livellata, posizionata su un cavalletto centrale collocato tra il motore e il leveraggio della sospensione posteriore. Svitate il tappo di carico dell'olio motore. Individuarlo è facile ma, in caso di dubbi, consultate il manuale di uso e manutenzione. Solitamente la capacità del serbatoio dell'olio dei moderni propulsori monocilindrici a quattro tempi da fuoristrada è di circa 1,2 litri, ma bisogna contare che circa 200 millilitri rimangono sempre all'interno della coppa. In ogni caso la quantità e il tipo d'olio ideale sono sempre quelli indicati dalla casa costruttrice. Procedete per gradi, immettendo un litro d'olio e rabboccando all'occorrenza. Il controllo va effettuato a caldo, lasciando girare il motore per circa due minuti. Prima di avviare il motore bisogna accertarsi che l'olio abbia raggiunto un livello di massima. Per farlo basta allentare la vite di controllo e verificare che esca qualche goccia.